buongiorno a tutti benvenuti a tutte a tutte benvenuti in questo webinar che cade durante la milano digital week quindi un calderone fortunato una settimana molto interessante piena di eventi e a mio avviso finalmente digitale perché una milano digital week fisica sicuramente portava portava tutta una serie di fattori positivi in giro per la città però già dal nome mi sarei aspettato fin dalle prime edizioni almeno qualche piccola nicchia digitale oggi ovviamente gioco forza ma con un esperimento interessante siamo tutti online io mi chiamo alberto maestri sono direttore della collana professione digitali per franco angeli e sono qua con tre amici colleghi super io uso sempre super come parola che non si sbaglia mai ovvero vado in ordine di come di come vi vedo patrizia musso che è docente all'università cattolica di milano e autrice di brand renaissance quindi un libro tra gli altri in realtà è ha scritto molti libri patrizia sul branding sia employer che proprio verso l'esterno anche verso il consumer non solo quindi in ambito hr il quindi patrizia musso un libro che uscirà fra qualche mese qualche in realtà imminente un libro imminente brand renaissance è già uscito forse ormai covi 19 ha scombussolato le le date di uscita daniele chieffi che è giornalista direttore comunicazione pubblica relazioni del dipartimento per l'innovazione e la digitalizzazione della presidenza del consiglio dei ministri è il direttore di un'altra collana di franco angeli che si chiama neo ed appena pubblicato la reputazione ai tempi dell'infosfera da pochi mesi e infine ma non per ordine di importanza naturalmente stefano chiarazzo che è digital reputation senior advisor e autore sempre per franco angeli e per la mia collana di social ceo ho dimenticato di dire anche daniele stefano naturalmente hanno scritto daniele in particolare ma in particolare in senso assoluto ha scritto tantissimi libri ma anche se ne ne ha chiesto altri altri volumi dedicati naturalmente alle alle proprie professionalità e proprie tematiche da parte mia ho scritto un libro l'ultimo per franco angeli che si chiama platform brand che appunto spiega i nuovi modi con cui le marche dovrebbero agire da un po questo uno dei temi no durante anzi grazie al quale noi ci ci riuniamo oggi ovvero proprio il rapporto tra reputazione infosfera e brand che sono tre termini che sempre più spesso vengono trovati come uno a fianco all'altro ecco daniele parto parto con te se sei d'accordo perché si parla tantissimo di infosfera meno negli ultimi anni e il vero problema è che cos'è l'infosfera ovvero il rischio che sia uno di quei termini di cui poi tutti parlano ma che poi diciamo in pochi conoscono effettivamente il significato quindi visto che è dedicato una parte importante iniziale del libro sul sul tema per settare lo scenario puoi farci chiarezza diciamo e fare chiarezza alle persone che si stanno man mano connettendo ci provo buongiorno a tutti innanzitutto allora infosfera è una parola grande no cioè una di quelle famose parole che hanno tanto significato dentro in realtà infosfera è un po quello che stiamo vivendo in questo esatto istante noi no cioè la una una realtà che tocca il nostro modo di conoscere la realtà circostante il nostro modo la nostra modalità che abbiamo di interagire con ciò che ci accade intorno che mentre prima era qualche anno fa completamente la nostra realtà era completamente fisica perché chiedeva una relazione interpersonale fisica una dimensione spazio temporale nel quale fossimo tutti quanti presenti no per riuscire a parlarci a a toccarci a vederci e quindi anche a in qualche maniera interagire con i nostri rispettive le nostre rispettive forme di comunicazione a vario livello oggi questo non è più così è ancora così ma non è più solamente così perché perché il digitale ha innervato questa realtà ha fatto sì che la nostra capacità di interazione di interrelazione con gli altri non sia solamente fisica ma sia anche digitale e questa doppia realtà in realtà costruisce un unico universo di riferimento che definiamo infosfera quindi alla fine della partita se vogliamo essere più possibili semplici infosfera è questa nuova forma di realtà nel quale tutti quanti noi viviamo ma non solamente le persone ma anche le aziende brand organizzazioni qualsiasi soggetto è immerso e perché il nuovo perché utilizza si muove con le stesse regole di tipo psicologico e cognitivo alle quali noi siamo abituati siamo sempre stati abituati nella nostra vita normale normale intesa fisica diretta in cui il digitale l'ha trasformata e l'ha amplificata piegandola modificandola però ad oggi noi siamo tutti quanti immersi in questa sorta di grande casa di vetro io la chiamo dove siamo tutti quanti in interazione dove siamo tutti quanti sottoposti al giudizio visivo e simbolico da parte degli altri e questo giudizio poi si va a sostanziare in quello che io definisco e che viene definita in genere per reputazione ma di questo poi magari ne parliamo dopo. Grazie Daniele. Stefano, allora Daniele ha introdotto diverse cose interessanti ed ha ben spiegato il tema dell'infosfera. A tuo avviso che ruolo viene, tu ti occupi naturalmente di socializzare tra le altre cose gli executive e quindi i CEO top manager, che ruolo vengono avere gli executive e loro agire proprio come spot person aziendali all'interno di questa infosfera, in questo nuovo scenario? Sì, allora guarda i manager fanno ormai parte usando un po' una visione organicistica che è quella che un po' tutti dovrebbero utilizzare di quell'ecosistema che raccontava Daniele, quindi un ecosistema che fa cose, dice cose, interagisce, comunica, quindi se pensiamo a anche una teoria cara proprio a Daniele che è la teoria dei nodi, è uno snodo diciamo di quella che è anche la rete digitale, quindi non solo quella fisica, è vero che sorridi Daniele, ti piace la citazione? Bene, allora, quindi fa parte appunto di questo che è appunto un ecosistema che diventa digitale. Proprio in questo periodo appunto Daniele parlava di come questo infosfera si sta un po' modificando, sta emergendo sempre di più quella che è una nuova capacità che i manager devono avere anche in questo nuovo contesto. So che a molti diciamo il termine resilienza, uff, l'abbiamo sentito tante volte, però mi piace invece questa resilienza trasformativa del leader, cioè il fatto che in questo mondo che cambia in realtà non è una questione di resilienza, di reagire ad un cambiamento, ma guidarlo, trasformare la propria organizzazione, trasformare la propria comunicazione, quindi essere una parte portante di questo cambiamento e di questa infosfera. Quindi sostanzialmente poi come lo vai a fare questo cambiamento? Quindi qual è il ruolo del leader, del manager, dell'executive? Deve essere un ruolo sostenibile, devi pensare a un cambiamento che sia sostenibile da un punto di vista economico-finanziario, sicuramente perché chiaramente sei chiamato a guidare un'organizzazione che deve in qualche modo produrre benessere anche economico-finanziario, quindi rispetto ai tuoi anche stakeholder più appunto gli investitori, ma lo stesso consumatore voglio dire. Dall'altra parte c'è invece tutta quella che è una trasformazione che sta avvenendo da un punto di vista sociale e in questo caso parliamo di sociale, ma che sta continuando. Noi in questi giorni non ce ne stiamo accorgendo, ma da un punto di vista ambientale. Molti stanno dicendo che questo, il Covid, è un po' un antipasto, una preparazione al mondo che dovremo affrontare quando questo cambiamento grande che sta avvenendo, inesorabile, che è il riscaldamento globale, ci porterà anche lì ad una new 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 normality, quindi sarà un continuo cambiare. Quindi ecco, il manager ha questo tipo di ruolo all'interno di questo ecosistema, deve avercelo, deve prenderla questa leadership all'interno della propria organizzazione e anche all'esterno. Quindi arrivando alla reputazione, tutto questo perché è importante per un manager? Perché se fai le cose giuste, se dici, le racconti nella maniera più adeguata, effettivamente ritagliandoti quel ruolo da leader, allora diventerai realmente un, cito il titolo del mio libro, un social CEO, in generale un social leader, quindi di fatto non un leader che lo è perché gli è stato attribuito un ruolo dalla sua azienda, ma un job title di fatto dalla sua azienda, ma realmente perché se l'è conquistato quello, diciamo, quello status di social leader quotidianamente con quello che fa, con quello che dice e creando un benessere per le persone e per l'ambiente che sia sostenibile. Quindi non solo oggi, ma anche futuro, chiaramente portando sempre valore anche economico e finanziario, come dicevo prima, perché altrimenti un'impresa non può andare avanti. Grazie Stefano, naturalmente io incito chiunque volesse, andiamo verso la saturazione dei posti a fare domande, dopo le raccogliamo e la cosa carina da fare sarebbe raccontarcele e farcele man mano durante la chiacchierata e non solo lasciare il quarto d'ora canonico finale per eventuali questioni ed eventuali alte prospettive al di fuori di noi quattro. Patrizia, allora Daniele ha parlato di, ho cominciato a prendere un pochino di note, di casa di vetro, se non ricordo male. Stefano ha ribadito il ruolo sostanziale del leader, non solo formale, quindi il social leader, il social CEO, il social leader in senso lato non è solo colui o colei a cui viene appiccicato il termine e che viene in qualche modo anche costretto dall'azienda, perché alcune volte diciamo ci sono anche dei dinamiche più push, ma colui che agisce in un certo modo e ha citato il tema di covid che appunto ha parlato anche di new 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 normality che non è male e presto sentiremo gli articoli del meet eccetera eccetera a parlarne. Tu appunto hai parlato di rinascimento, adesso lo dico in italiano, rinascita, rinascimento, poi magari ci dirai tu qual è la prospettiva di questa renaissance e in che modo appunto i brand si stanno, si dovranno sempre più reimmaginare dopo il covid che porterà effettivamente dei cambiamenti sostanziali, tante cose di pura formalità e di pura vetrina vengono, verranno a cadere e stanno cadendo. Sì, ti ringrazio per la parola e saluto anch'io tutti. Allora un po' il tema di questo, di questa rinascita e rinascimento, anche qui è stato un po' singolare il fatto che il titolo del libro è stato ideato e previsto pre-covid, quindi anche qui con la mia collega Maria Luisa Bionda con cui appunto abbiamo redato questa nuova pubblicazione avevamo tra virgolette un pochino intercettato alcune dinamiche che stavano nascendo, quindi prendo anch'io assolutamente in prestito il concetto di casa di vetro di Daniele che è studiato e che si sta appunto ampliando soprattutto sul tema della comunicazione esterna, lo vedevamo ancora diciamo così un po' appannato nel mondo delle organizzazioni, per cui anche qui prendendo quello che diceva Stefano, tutta la dimensione anche della leadership, dell'organizzazione, quello che fanno i manager non soltanto perché hanno quel job title, ma effettivamente che cosa fanno nei confronti dei loro collaboratori, quanto dialogano, quanto c'è affinità, quanto c'è connessione, quanto si usano anche tutti gli strumenti digital, quindi avevamo iniziato appunto a fare già questo approfondimento. Il covid in qualche modo appunto al di là di aver un po' sballato i tempi di uscita del libro, ma tutto sommato ci ha anche dato la possibilità di vedere come questi cambiamenti che erano già in corso, in qualche modo erano funzionali anche a sopravvivere a questa fase decisamente complicata e a dare anche forse una spinta ulteriore, queste magari iniziative che erano un po' timidi iniziali, quindi di andare un po' a pulire i vetri e essere trasparenti anche a livello di organizzazione e quindi riprendere un po' il tema del brand come generatore di valore, come capacità appunto di dialogare anche con i dipendenti, sia in un'ottica anche qui di internal branding, quindi con tutta la compagina aziendale che è già, fa già parte del brand, quindi a tutto tondo, quindi anche qui l'idea era di capire come questa casa di vetro in realtà si compone grazie ai dipendenti, l'idea di appunto farli dialogare davvero, non usare queste etichette di bottom up o di condivisione che sono poi solo delle etichette vuote, quindi davvero che cosa facevano le aziende per dialogare con i dipendenti, se usavano davvero le piattaforme di collaborazione, quindi avevamo iniziato anche a vedere l'uso di Telegram piuttosto che di Teams per far lavorare a distanza i dipendenti, se c'era la possibilità di utilizzare Telegram per narrare, anche qui narrazioni nuove, la vita lavorativa, cosa che non era stata presa in considerazione magari fino a qualche tempo fa. E poi c'è tutto il tema, anche qui magari poi ci torniamo dopo, invece dell'employer branding, cioè questa casa di vetro che nel momento in cui appunto si rende trasparente diventa ancor più trasparente con il digital all'occhio dei nuovi dipendenti, soprattutto i giovani, quindi anche qui dalle nostre valutazioni e le ricerche ma anche le interviste che abbiamo fatto sia con i manager che con appunto un campione di giovani millennia, la 6 generazione Z, stava iniziando a emergere quanto davvero il digital diventasse un'occasione, una finestra per tra virgolette iniziare a vedere questa casa di vetro dall'esterno, quindi vado a cercare le recensioni anziché sul brand come cliente, sul brand come appunto futuro dipendente, quindi i portali di recensione fatti da questi dipendenti sui luoghi di lavoro, piuttosto che gli stessi siti aziendali, appunto le pagine Instagram, tutta la parte dei social che vanno a raccontare la vita reale, ecco questo è il tema della connessione, quindi mettendo un po' insieme i vari pezzetti questo rinascimento era l'idea di riprendere questo cambiamento che con il Covid appunto stiamo vedendo a un impatto ancora più forte e dar davvero leva a questo concetto del brand come generatore di valore appunto anche per i propri dipendenti, quindi c'è una grande attenzione al cliente, non si dice tutto intorno al cliente, ma c'è anche una grande attenzione al dipendente, sia quello attuale ma anche quello futuro, quindi un po' in questo senso avevamo visto e un po' riletto anche il tema della rinascita, quindi finalmente usare anche appunto il digitale per dialogare in modo più efficace anche con questa parte, diciamo così, della popolazione del brand. Stefano, Patrizia ha citato, poi torno perché ad esempio c'è una piattaforma che si chiama Glassdoor, mi è tornato in mente mentre parlavi, quindi il tema del vetro torna, poi a metto in mente un altro report che parla di Glassbox Brand, quindi insomma il tema del vetro torna spesso in questi anni. Stefano, naturalmente se si è nell'infosfera, se si agisce nell'infosfera, se si ha a che fare quindi con la reputazione, se si ha a che fare con la generazione di valore, così come Patrizia un paio di volte ha rimarcato che è il ruolo del brand, naturalmente però il social leader appunto è un asset fondamentale sempre più importante, abbiamo visto tantissimi report in questi mesi, in particolare il CEO ma non solo, naturalmente però a volte c'è anche un tema di protezione, nei momenti in cui questi asset sono le facce, le prime facce dell'azienda, ancora prima del brand, ci sono in uno scenario così, come dire, permeabile, così trasparente, ci può essere anche un ruolo sulla difensiva, di protezione. Ecco, hai esplorato nei tuoi ricerche, nelle tue consulenze anche il ruolo degli executive proprio come protection, diciamola così. Sì, allora considera che, cioè io quello che penso è che un manager abbia di fatto tre anime, allora una è l'anima del brand builder che era un po' quello che raccontava anche Patrizia, quindi costruire una marca forte che generi valore per tutti gli stakeholder, poi c'è il brand advocate che è quello di cui abbiamo parlato prima, quindi social leader inteso anche come chi ci mette un po' la faccia. E poi esiste anche un vero e proprio brand guardian, quindi il guardiano della marca in qualche modo, che in realtà ha un po' i due cappelli, sia il cappello, se vogliamo, di marketing dove proteggere la marca significa anche evitare la schizofrenia nella comunicazione della marca stessa, quindi se più reparti dell'azienda vanno a comunicare la marca, la comunicazione deve essere chiara, costante, coerente, le tre C famose della comunicazione. Dall'altra parte, chiaramente, brand advocate, tu non puoi andare a costruire una marca e non rappresentarla al meglio, non incarnarla al meglio, quindi già in queste due anime, se vogliamo, quindi anche quando tu parli, interagisci, anche qui Patrizia citava l'organizzazione anche interna, quindi tu vai a comunicare i tuoi valori aziendali, come fai le cose, non solo il cosa, no? Quindi poi c'è questo passaggio ormai a cui tutti noi siamo abituati dalla mission, cioè il, diciamo, il cosa al purpose, no? Quindi il perché facciamo le cose, quindi il nostro impegno quotidiano nei confronti appunto di tutti gli stakeholder. Quindi già fare bene queste due parti vuol dire in qualche modo difenderla alla nostra marca, perché stiamo comunque creando quel substrato, quell'ecosistema, no? Di cui parlavamo prima, anche la stessa infosfera, dove, attenzione, anche i dipendenti sono parte dell'infosfera, quindi anche loro comunicano, quindi ecco, guidare in qualche modo la comunicazione sugli asset di comunicazione aziendale, il manager come comunicatore, il dipendente come comunicatore, già abbiamo fatto un grandissimo lavoro. Dall'altra parte c'è tutto un discorso, chiaramente, di crisis management, che appunto Daniele conosce molto molto bene e che in realtà sarebbe meglio fare crisis anticipation, cioè conoscere in qualche modo tutte quelle che sono anche le aree dove siamo magari anche un po' più deboli, più, dove abbiamo magari anche dei fianchi scoperti e lì mettere già, predisporre, no? Anche dal comitato di crisi a tutta una serie di anche di contenuti e di azioni reattive che potremmo mettere in piedi nel momento in cui si potesse, no? Verificare un certo problema e ovviamente prenderlo per tempo, quindi quando ancora una crisi è latente non diventa invece conclamata e dove è più difficile anche andarla a gestire. Però aggiungerei in questo mondo che cambia, in questa trasformazione di cui parlavo prima, che esiste anche una cosa bellissima di cui tutti ci stiamo appassionando, cioè i dati, no? Quindi i dati diventano un qualcosa per appunto andare a vedere dove orientare tutto il nostro piano di business, ma anche quello di comunicazione, quindi comunicazione proattiva e reattiva, ma i dati vanno anche gestiti. Quindi c'è tutto discorso di sicurezza dei dati, privacy e quant'altro, che apre il fianco per tutte le organizzazioni anche ai rischi di cyber security. Quindi noi diventiamo sempre più bravi, gli hacker diventano sempre più bravi, ecco, a un certo punto è un po' una corsa. Quindi sicuramente il manager deve essere anche, diciamo, quel leader che conosce, magari non tecnicamente nel dettaglio ogni singola cosa, ma conosce tutti questi ambiti appunto che velocemente ho provato a raccontare e in qualche modo va a predisporre una crescita dell'organizzazione in termini di acquisire le giuste competenze, avere le giuste persone sedute sulle giuste sedie, avere le giuste tecnologie che supportino il processo aziendale e il cambiamento del processo aziendale. E quindi poi per terminare, proprio per un ambito un po' più mio, se vogliamo, appunto la comunicazione executive, quindi tutto questo deve essere in ogni caso visibile all'esterno, raccontabile in maniera semplice e fare in modo che sia effettivamente anche poi sposata da tutti gli stakeholder, vedendo appunto il manager anche come un punto di riferimento importante, una sorta di opinion leader e non più come il divo la celebrity, non servono più i divi e le celebrity, servono le persone che fanno cose, le raccontano al meglio e fanno il bene del proprio business, ma anche delle persone dell'ambiente. Daniele, Stefano ha citato un paio di diverse cose molto interessanti, un paio di spunti che su cui mi piacerebbe avere un tuo contributo. Allora, in primis, la cosa che mi sembra più semplice da estrapolare adesso è che la reputazione è diventata un gran casino, tecnicamente parlando, però la reputazione è sempre stata, tecnicamente è diventata un gran bel casino. C'è sempre stata, quindi Checo, qual è nel passaggio da, la dico male, l'analogico al digitale? Perché? La reputazione è diventata questo gran bel casino. Una seconda cosa, Stefano ha detto qua, Daniele è un esperto di crisis e comunque ha gestito diversi temi molto interessanti a livello di crisis e la crisi nel mondo digitale per un'azienda, per un'istituzione, per un ente, per un'entità in senso ampio. Fa sempre e solo male oppure, quella è una domanda di cui anch'io mi interrogo spesso, basta l'importante è che se ne parli oppure no? Bisogna sempre gestire, levitarla, eccetera, eccetera. Allora, l'importante è che se ne parli? Ti rispondo subito no. Nel senso che non siamo più nel mondo della brand awareness, siamo nel mondo della brand reputation, quindi non è importante quanto se ne parli, ma è importante come se ne parla, quindi non se ne deve parlare per parlare, soprattutto se se ne parla male è un problema, ed è un problema molto serio, ed è un problema reputazionale. Perché la reputazione è diventata, come dici tu, tecnicamente un casino? In realtà è diventato un elemento centrale per tutti i soggetti che interagiscono all'interno di comunità e di mercati, perché è diventato un elemento così centrale, perché in realtà noi ci troviamo in una situazione nella quale tutti quanti vediamo e giudichiamo ciò che altri soggetti espongono da un punto di vista simbolico. In questo senso entra molto la casa di vetro, il vetro, ne parlava Patrizia, ne parlava Stefano, cioè noi non stiamo parlando, non siamo più in un mondo dove ci sono delle cose che le persone vedono e delle cose che le persone non vedono o ci sono delle cose che vengono viste da alcune categorie, alcuni stakeholder, alcune categorie di persone e che non vedono altre. In realtà noi siamo, ed è questa la grande novità dell'infosfera, siamo all'interno di una realtà dove tutto è visibile a tutti e fin qui è in parte ciò che è sempre accaduto col digitale, ma non completamente, ma dove tutti quanti vediamo, ed è quella secondo me la chiave che cambia l'aspetto cognitivo di tutto quanto. Tutti quanti noi vediamo come gli altri reagiscono a ciò che vediamo, per cui ci rendiamo conto, percepiamo, vediamo, viviamo il modo in cui tutti quanti reagiamo a ciò che vediamo. Questo innesca quello che nella realtà sono dei fenomeni, quelli nella realtà fisica intendo, sono dei fenomeni normalissimi, cioè la costruzione di un giudizio di un gruppo di persone su un'altra persona, su un soggetto, su un'azienda, su un brand, su quello che vuole. La differenza sostanziale qual è? Che prima queste cose accadevano all'interno di reti fisica, riguardavano per la maggior parte persone fisiche, cioè ci riguardavamo a vicenda, e su queste cose decidevamo il nostro destino sociale all'interno di queste reti fisiche. Oggi, e soprattutto dopo il 2007-2008, cioè con l'avvento degli smartphone che ha liberato internet, come ci ha inserito all'interno di internet in maniera continuativa, e soprattutto l'avvento, l'esplosione dei social network, questa interazione è diventata globale su tutto. Per cui noi decidiamo, vediamo, parliamo, valorizziamo e valutiamo tutto quanto ciò che accade. E questo ha un senso complesso per le persone, perché amplia la sfera di visibilità di ciò che noi facciamo, perché noi veniamo valutati da come interagiamo sui social, da quello che scriviamo, da come parliamo, da come ci vestiamo, da ciò che io faccio vedere dietro durante questa call. Cioè, il contesto che io scelgo aiuta a costruire simbolicamente il modo in cui vanno i percepite. E voi non mi state percependo solamente sulla base di ciò che io dico, del modo in cui mi muovo, o nel modo in cui io gesticolo, ma anche dal modo in cui io mi presento all'interno di questo riquadro rettangolare. Quindi tutti gli elementi simbolici che noi mettiamo in piazza, che sono ovviamente non visibili dagli altri, vengono giudicati dagli altri, su questi vengono costruite delle narrazioni, delle valutazioni e queste valutazioni sono la reputazione. Qual è la grande novità? È che non è più così solamente per le persone, ma è così anche per i brand e per le aziende. E l'enorme differenza qual è? È che prima, e mi riallaccio alla prima parte della tua domanda, Alberto. Prima, le aziende, le dinamiche psicologiche delle persone, le dominavano, le guidavano, le usavano. Se qualcuno di voi, Patrizia sicuramente, Stefano sicuramente, mi riferisco a chi ci sta seguendo, anche tu ovviamente Alberto, conoscete sicuramente i persosori occulti di Franz Packard, no? 1956, un libricino che adesso si trova a 2,50 euro per Einaudi, mi scuso col mio editore, ma non ce l'avete in catalogo, per cui devo nominarne un altro. Quel libro racconta esattamente come le aziende, da una posizione di forza, guidassero, sfruttassero le dinamiche psicologiche, cognitive, sociali, delle persone, dei pubblici di riferimento, dei target, dai tempi, per ottenere i loro vantaggi commerciali. Questo elemento si è rotto nel momento in cui le aziende sono state catapultate all'interno della stessa realtà dove c'era, dove prima vivevano esclusivamente i propri pubblici, ok? Quindi oggi non sono più in grado, non con la stessa potenza di fuoco quantomeno, di sfruttare queste dinamiche, ma sono loro stesse oggetto di queste dinamiche. Quindi da dieci anni a questa parte le aziende non devono più costruirsi una notorietà di marca, ma devono costruirsi una reputazione di marca, che è costruita sulla base non tanto e non solo di quello che comunicano, in senso tecnico, intendo proprio la linea di comunicazione, il messaggio, cioè c'è anche ovviamente, ma anche e soprattutto su come incarnano esse stesse la loro fisicità, la loro presenza nella comunità, il loro essere attive o proattive all'interno della comunità, e come per esempio il CEO incarna l'azienda che rappresenta, e quindi questo il libro di Stefano è preziosissimo secondo me, in un unico complessivo apparato simbolico esposto. Che cosa fa? E qua chiudo, vado veloce e rispondo alla parte sulla crisi. Che cosa fa? Crea un rapporto di fiducia fra brand e comunità. Costruisce il rapporto di fiducia fra brand e comunità esattamente come succede fra di noi. Io e Stefano, io e Patrizia siamo amici da tempo, fra di noi c'è una fiducia, ok? Cosa accade? Cosa potrebbe mettere in crisi questo rapporto di fiducia? Una delusione, il rompere la fiducia, il deludere l'aspettativa dell'altro. La crisi è esattamente questo, la crisi nell'era dell'infosfera non è più solamente un evento traumatico, l'incidente piuttosto che non so cos'altro, è qualsiasi elemento che sia in grado di andare a intaccare, a rompere o a infrangere il rapporto di fiducia che c'è fra brand, azienda, organizzazione, persona e comunità di riferimento. Come si rompe questa fiducia? Non rispettando le aspettative. non soddisfacendo le aspettative. Quella è crisi, quella è una crisi reputazionale e l'unico modo per gestire la crisi reputazionale è anticiparla, come diceva Stefano prima, fare risk management prima ancora che crisis management, ok? Tu mi dicevi e concludo, se la crisi può essere resiliente, certo lo può essere, bisogna però stare attenti a comprendere profondamente dove sia il vulnus da un punto di vista del rapporto, della relazione con le nostre comunità. È un po' come quando due fidanzati litigano, mettiamola così, no? Cioè ci sono vari livelli di litigio, come vari livelli di delusione, no? E di possibile danno che puoi fare alla fiducia altrui? Ci sono delle cose che sono recuperabili, perché magari ti impegni, lo fai vedere, perché sei pentito, perché adesso ognuno di noi ci sarà passato, ci sono delle cose che non sono recuperabili. È ovvio che più è grave, più arriva nel cuore del rapporto di fiducia, quindi tocca gli aspetti profondamente valoriali del rapporto tra brand e comunità e quindi va a rompere quella aspettativa, meno sarà recuperabile, quindi sarà molto più lontano il concetto di resilienza possibile. In altre situazioni sì, è possibile imparare dai propri errori, recuperare e ricostruire una migliore reputazione. Daniele, hai citato, grazie ovviamente perché è stato molto interessante come prospettiva, hai citato diverse parole, appunto quella della narrazione, la reputazione di marca, le aspettative, e io all'inizio scherzando ho detto la reputazione è un gran casino. Un'altra parola che pre-covid ci ronzava per la testa, oltre che green, era nuove generazioni, che anche quelle sono un gran casino se siamo un'azienda, sia che siamo un'azienda come employer che se siamo un'azienda come produttrice e derogatrice di beni e di servizi. Si dice, a proposito di Casini, che le nuove generazioni hanno rotto tutto, no? Questo tema di deduction lo portano anche le nuove generazioni, semplicemente perché banalmente usano prodotti e servizi così come non sono stati progettati oppure non erano usati dalle generazioni precedenti. Io faccio sempre i casi delle assicurazioni, nessun ragazzo oggi si sognerebbe mai di anche solo pensare a farsi l'assicurazione, cosa che invece i suoi genitori era una delle prime cose in testa, una delle prime elementi in testa, piuttosto che quello delle automobili. Oggi avere l'automobile è quasi un elemento negativo, consuma, inquina, eccetera, eccetera, rispetto a un car sharing che è più leggero. Ecco, Patrizia, a proposito proprio di employer branding, a proposito di questo glass box, di questa casa di vetro, di questa glass door appunto per riprendere, in che modo i brand nel loro processo di rinascimento e di rinascita, potranno incontrare nuovamente le nuove generazioni alla luce anche di Covid, per esempio penso sempre a un tema che è quello dell'open space, che era una grande narrativa usata dalle aziende. Oggi l'open space si schifa e oggi è nell'immediato futuro, ovvero se prima era un elemento di employer branding, quindi sicuramente abbiamo uffici aperti, uffici che agevolano e stimolano la collaborazione, adesso ognuno vuole invece il suo loculo che sia ben separato dagli altri. Ecco, in che modo appunto i brand lato employer e gli employer branding narrano e possono narrare in modi non nuovi, ma in modi innovativi e quindi per pescare di queste nuove generazioni? Il tema è infatti molto sfidante, anche qui per nuovo, anche io apprestito elementi che ho sentito sia da Stefano che da Daniela, da una parte questi nuovi ruoli dei manager e dall'altra parte il tema dell'aspettativa, perché allora anche noi, appunto anche qui con questo prezioso contributo di vari manager che gentilmente poi si sono fatti intervistare, abbiamo preso ad esempio per loro la grossa sfida del cambiamento, della nuova narrazione che impone un qualche cosa di nuovo e quindi tutto quello che è nuovo sempre spaventa, perché non ci sono progressi, non ci sono appoggi ed è nata un po' questa figura che abbiamo delineato nel libro del manager esploratore. Quindi l'esploratore deve essere capace di stare coi piedi nel presente, ma in qualche modo proiettarsi nel futuro. Quindi ci sono temi di innovation e anche appunto temi di nuovi sogni che sono emersi, che però devono essere appunto trattati, e qui prendo un'altra parolina di Daniele, rispetto alle aspettative. Quindi cambia anche qui non un'innovazione nel senso pieno del termine, ma un'innovazione e dei sogni che devono essere appunto allineati con il contesto. Con i giovani questa cosa diventa ancora più complicata, perché come dicevi giustamente tu Alberto, anche qui il libro nella prima parte ha anche un grande affondo sulla narrazione che era ormai diciamo così nata, ma anche consolidata proprio sugli ambienti di lavoro, quindi viene da noi perché hai l'open space, perché puoi collaborare, perché è tutto smart, ma nel senso della passetta è sempre aperta, vieni quando vuoi, quindi ovviamente questa narrazione che comunque in qualche modo si stava consolidando, adesso deve in qualche modo appunto prendere un po' le mosse e cambiare rispetto a queste nuove aspettative, perché ovviamente il Covid ha rilanciato con dei temi di sicurezza, di benessere, di attenzione alla salute, di inquinamento, quindi sono nati nuovi schemi. Quindi quello che abbiamo visto è che appunto in questa fatica, e qui arriva di nuovo un altro pezzetto del rinascimento e della nuova narrazione, è andare a sentire, mettersi di nuovo in fine tuning con i giovani e quindi di nuovo non focalizzarsi su delle narrazioni precedenti che ormai sono necessariamente disallineate con il contesto, perché c'è un tema di sicurezza, noi abbiamo anche visto quali sono un po' le direttive banalmente appunto anche sugli open space, quindi devi tenere la distanza, devi avere il vetro o il sistema che ti separa, ci vogliono delle segnaletiche particolari, non c'è più appunto la possibilità di stare vicini. Tutte queste cose ovviamente sui giovani che ancora devono poi affacciarsi al mondo del lavoro sono ancora più complicate da comprendere. E questo tema forse che sta un po' emergendo come nuova narrazione è tutto il tema dello smart working. Allora anche qui se prima c'era tutto il tema del vieni qui, lavori appunto con gli open space, con delle sedi fisiche, adesso il manager esploratore deve mettere un po' alla prova, e io dico finalmente il concetto dello smart working, perché anche questo in Italia ci sono aziende all'avanguardia che lo utilizzavano da tempo, altre che banalmente ancora lo usavano un po' come un'etichetta vuota, quindi davano questa indicazione della possibilità di lavorare da remoto, anche questo remoto non si capiva bene se e dove potesse essere, il ruolo anche appunto del manager, che non deve essere più il controllore che deve stare appunto dietro alla mia scrivania per vedere se esattamente faccio tutto quello che mi hai dato, un nuovo modo di lavorare che va per obiettivi, quindi tutto il tema della narrazione appunto sull'open space che adesso non ha più senso e non si può neanche più fare in questo sogno che si era creato pre-covid, adesso si sta spostando sullo smart working e stanno nascendo anche delle indicazioni, anche delle prime ricerche sulla relazione appunto con la parola working al centro tra smart working e home working, perché se ci troveremo comunque soprattutto magari nei prossimi mesi ancora a lavorare dalle proprie abitazioni o comunque in queste modalità da remoto, anche i giovani si chiedono concretamente poi come faranno, quindi si sta anche un po' ripensando a come costruire i nuovi luoghi di lavoro, come diceva prima anche Daniele, che cosa metto alle mie spalle, per esempio anche in ogni università con i giovani adesso stiamo facendo dei corsi che fino a qualche mese fa non avremmo mai immaginato di fare, ma di gestire il public speaking da remoto con una telecamera, saper usare tutte le piattaforme e anche stare attenti a quello che c'è alle proprie spalle, per cui sono tutte dinamiche appunto che fanno parte di una nuova narrazione che anche i brand ci auguriamo poi prenderanno in carico anche qui nell'aiutare poi i giovani ad allinearsi a queste nuove prospettive, quindi anche qui nuovi sogni e innovazioni, ma che siano appunto sintoniche con il contesto e con le aspettative dei giovani, quindi l'altra parolina magica secondo me che chiude un po' il tema della reputazione dell'identità è ascolto, cioè i brand a maggior ragione adesso dovranno ascoltare quelle che sono le esigenze e qui prendo un'altra parolina delle persone, perché mai come adesso è chiara questa dimensione appunto molto forte del brand che deve stare realmente in ascolto e appunto fornire delle narrazioni, anche qui qualcuno mi diceva scomparirà il tema dello storytelling, dipende da come lo intendi, se anche qui lo prendiamo nell'ottica di raccontare delle storie non ha più senso, come diceva anche prima Daniele, la reputation ha una sua solidità, dei valori, ha un'identità, ci sono dei riferimenti e dei contenuti che appunto vanno assolutamente presidiati, a maggior ragione con i giovani che sono da un certo punto di vista fragili, che vanno accompagnati, ma che sono anche grandi conoscitori del mondo della rete, quindi anche qua tramite il digital costruire delle nuove narrazioni che siano appunto coerenti e anche allineate con con le aspettative dei giovani. Grazie Patrizia. Stefano chiudo con una domanda a te, poi chiedo sempre se ci sono domande, ne è arrivata una che è più una considerazione da parte di un ex studente di Daniele, che appunto fa un ragionamento su come in questo periodo ci siano state una serie di comunicazioni su alcune aziende che hanno delocalizzato, non la produzione, ma proprio la sede, e che adesso per esempio chiedono aiuti piuttosto che sovvenzioni e via dicende, quindi era un ragionamento su come anche quello impattasse effettivamente sulla reputazione, quindi questo lo lascio in sfondo. Stefano, quindi appunto esorto chi ha delle domande, chi avesse delle domande, a farcele noi e noi le leggiamo sicuramente. Stefano, l'ultima domanda a te. Social leader, siamo all'interno della Milano Digital Week e il macro tema, il cappello è città aumentata, se non ricordo male. Comunque ovviamente anche le città sono sempre più, anche i territori sono sempre più un brand, ce lo dice Richard Florida da 20 anni, adesso anche diverse città italiane, per cui mi sento di dire, da non milanese, trapiantato a Milano, Milano, hanno riconosciuto di essere dei veri e propri brand, quindi così come noi riusciamo ad attrarre dei giovani lavoratori talentuosi, dei giovani in generale dei talenti nelle aziende, abbiamo la possibilità di attrarre dei talenti o comunque di promuovere dei comportamenti virtuosi nelle città. Ecco, il social leader e i social ceo, se noi parliamo in termini metaforici per un territorio, chi diventa e ci sono delle, si possono, come dire, permutare, prendere delle regoline che valgono in azienda anche nei momenti in cui si mette la faccia su un territorio oppure è tutto un altro mondo? No, no, guarda, è esattamente replicabile ovviamente con le logiche, che possono essere logiche della Pia, cioè spesso a lezione mi viene detto, però la pubblica amministrazione non ha degli obiettivi di business, no, no, ce li ha, ce li ha, ce li ha perché comunque deve rispondere appunto alle tante aspettative dei cittadini, deve effettivamente costruire e comunicare un brand forte che passi appunto dall'attrarre talenti ma anche investimenti, no, quindi che siano dei investimenti turistici ma anche industriali, infrastrutturali, eccetera, eccetera, come per esempio la classica, giusto per fare un esempio, la classica magari gara, no, per riuscire ad ospitare magari un'importante manifestazione o banalmente guadagnarsi il passaggio dell'alta velocità dalla propria città, no, per dire, quindi ci possono essere varie obiettivi di business, no, da raggiungere. Sicuramente per quanto riguarda la pubblica amministrazione è sempre molto complicato tutta la parte di equilibrio, no, quindi scontenterai sempre per forza qualcuno, quindi il discorso è riuscire a fare in modo che tutto funzioni il più possibile al meglio perché effettivamente quell'anticipazione di possibili rischi di cui parlava Daniele passano dalla semplice quotidianità di un cittadino a tutto il lavoro che le grandi aziende o le piccole e medie imprese fanno tutti i giorni, quindi insomma non è proprio una cosa da poco. Per replicare, diciamo, quello che fa un manager in azienda e quindi pensando a chi guida una pubblica amministrazione in qualche modo come un manager, perché quello è di fatto, no, è un manager di un territorio, io vado a mutuare quello che è un modello che secondo me è molto serio, inappuntabile, molto professionale, è il modello dire, fare, baciare. Lo conoscete? Allora, e lo farò, Daniele non ridere, perché lo farò tra l'altro citando i vostri tre libri, quindi io chiuderei qui il webinar perché stiamo andando verso una direzione veramente insostenibile, visto che ho parlato di sostenibilità prima. Comunque, a parte gli scherzi, allora... Eppure io non ti ho fatto battute per tutto il tempo, Stefano, però così veramente, cioè... Vedi che ti sto dando là per farmene proprio adesso? Allora, no, tornando un attimo a serie, allora dire, allora dire e qui parlando appunto di infosfera, pensando proprio a... Proviamo ad applicarlo a qualcosa di concreto, quindi sempre torniamo un po' al periodo che stiamo vivendo, no, tutto il periodo del Covid. Allora, a dire cosa significa in questo momento? Dire significa che il manager di un comune, di una regione, di chi guida il nostro paese, sostanzialmente significa che se vogliamo far sì che le persone non operino nella loro quotidianità in maniera schizofrenica, dobbiamo dare delle regole chiare, ok? Quindi noi per primi dobbiamo essere coesi, cosa che purtroppo non è successa, quindi c'è chi ha usato toni allarmistici, c'è chi invece diceva, ma no, è un... Dai, non succederà nulla. Quindi sostanzialmente però qual è il discorso? Che chiaramente ci si aspetta che la pubblica amministrazione faccia sempre gli interessi, anche e soprattutto quando si parla di salute, quindi un ambito così importante, gli interessi effettivamente ai cittadini e che quindi di conseguenza abbia anche la giusta competenza di non dire magari, giusto per fare un esempio, che con un coefficiente 0,5 ci vogliono due persone e questa cosa non capiterà, sicuramente è molto difficile che capiti per prendere anche noi il Covid, adesso io ci scherzo, però sicuramente, chiaramente il leader, quindi il leader di una pubblica amministrazione, deve essere il primo ad aiutarci a capire cosa sta succedendo e guidarci verso i giusti comportamenti. Allora, quindi questo è il dire. Quindi, e qui appunto mi rifaccio proprio in termini di infosfera e del fatto che il manager è un media proprio al libro appunto di Daniele. Arriviamo al fare. Il fare è importante, cioè sì, per carità puoi dire, ma devi anche fare molto, cioè mettere nelle condizioni le tue infrastrutture, i tuoi ospedali, le tue persone, di operare comunque al meglio in questo che è un periodo appunto di cambiamento. E far sì che questo riesca in qualche modo a riportare il tutto a una situazione, una buona situazione, cioè purtroppo ci siamo resi conto che poi lì il fare portava dei dati che ci venivano poi raccontati alle sei di sera in maniera inesorabile e quindi lì riuscivamo a capire cosa stava succedendo e come effettivamente le azioni che anche i manager appunto della PA mettevano in piedi stavano portando effettivamente dei risultati. L'altra parte, e qui magari si può sorridere un po' di più, e quindi qua io parlo di, ecco, la cosa importante per esempio del tuo libro, invece Alberto, è il discorso della piattaforma, platform brand, quindi il fatto di vedere una pubblica amministrazione come una vera e propria piattaforma che offra servizi in qualsiasi momento anche nel più complicato e dove il cittadino si sente in qualche modo abbracciato da questi servizi, abbracciato dalle decisioni che vengono prese e quindi sapere che in quella piattaforma potrà avere quella rassicurazione, quei servizi, quelle linee guida che potranno permettergli appunto di affrontare anche appunto momenti come questo. Quindi è interessante pensare anche la pubblica amministrazione come una piattaforma che di fatto ha il suo brand. E poi arriviamo al baciare. Allora, il baciare qua chiaramente in questo periodo no, dobbiamo stare distanti, minimo un metro, tutti con la mascherina, non sia mai, non sto dicendo che ci dobbiamo baciare tutti, però appunto quella costruzione del valore, e qui appunto parlo di brand renaissance, quindi del fatto che sappiamo che le pubbliche amministrazioni negli ultimi anni hanno avuto un problema anche di fiducia nei confronti del cittadino, quindi anche recuperare questa fiducia tra l'altro in un periodo difficile come questo, cosa significa? Significa che quello di cui abbiamo parlato prima col dire e fare, di fatto diventi una vera e propria anche relazione tra brand pubblica amministrazione e quelli che sono i cittadini. Quindi il fatto proprio, mi piace questa cosa più che di baciare, di abbracciare, di abbracciarci attraverso dei valori, delle azioni condivise, attraverso chi lavora nella pubblica amministrazione e chi è stato in prima linea anche rischiando la vita in questo periodo, ma anche chi di tutto questo poi in qualche modo, in maniera positiva, negativa e di peso anche un po' dalle regioni d'Italia, dalle micro zone in cui abbiamo avuto la fortuna in questo periodo di vivere, ma anche che poi dopo ha portato piano piano a ritornare a questa famosa new normality. Ecco, quindi, sono partito scherzandoci un attimo, però secondo me era qualcosa di interessante anche per avere un po' un fiorouge tra anche i vostri libri che effettivamente aiutano proprio a vedere. Poi, se ci pensate, quattro libri, stesso argomento e vederlo proprio da quattro punti di vista differenti. Scusami Alberto, sto facendo un po' il tuo lavoro, ecco, però mi taccio, mi rendo conto che la mia quota è stata abbondantemente superata. È corretto ed è effettivamente molto giusto, è il motivo per cui ci troviamo effettivamente qua a chiacchierare. Ci lasciamo, vi ringrazio tantissimo, poi spendo gli ultimi dieci secondi per ringraziarvi al meglio. Vi lascio con... sono arrivato un po' di domande, sono domande che riguardano però l'attualità e così via, quindi magari invito... sono tanti studenti di Daniele, quindi hai seminato bene Daniele nelle varie aule. No, è che sono vecchio, Roberto, non è quello. Ah, ok. Quindi i tanti studenti è perché ho avuto tante aule, non è vero. E quindi ovviamente invito tutti poi a farcele sui social, LinkedIn soprattutto è la piattaforma ideale per farle. Io ci lascio, effettivamente, perché la faccio a tutti, con una domanda. Si parla di rilancio, di renaissance effettivamente anche per l'Italia, no? Dovremmo rinascere, ma non solo a livello economico, sociale, che non è, mi viene a dire, nei confini di questo webinar, ma anche in primis come brand, come brand Italia che aveva un gran valore come equity, ma anche come, diciamo, anche variabili più intangibili. Qual è, a vostro avviso, in una parola chiave, in una keyword, in due massimo, in un tweet massimo massimo, la ricetta da cui partire, l'elemento da cui partire per il brand Italia, per risollevarsi in una guerra anche un po' reputazionale, un po' di fake news dove è nato il virus, è nato in Cine, in Italia, è nato... Qual è una parola chiave? A partire da Patrizia. Patrizia, Daniele e Stefano. Allora, io sarei, visto che parliamo del brand Italia, che a me è molto caro, perché l'ho studiato a più riprese, direi Mindset Revolution, perché i primi a crederci in questo brand Italia dobbiamo essere noi, quindi dobbiamo cambiare l'atteggiamento e la nostra reputazione, l'identità c'è, bisogna riprenderla in mano, quindi ricambiare un po' anche da questo punto di vista. Io direi autostima, nel senso più ampio del termine, nel senso che sono d'accordo con Patrizia, cioè c'è tutto, ma anche il fatto che ci crediamo un po' di più noi, perché noi non ci crediamo in realtà, ci crediamo poco. Ci crediamo poco e ce lo raccontiamo poco e lo raccontiamo poco fuori, spesso danneggiando pesantemente la nostra reputazione, ma non tanto la nostra reputazione come italiani, come Italia, come il brand Italia, eccetera, ma proprio anche il nostro, il percepito di noi stessi, no? Allora, abbiamo milioni di difetti, ma abbiamo anche miliardi di pregi. Cominciamo a, come dire, a coltivare un po' più questa autostima, il Covid ci può, in qualche maniera, avendo fatto noi molta comunità, in questo momento, molta più comunità rispetto a prima, ma riguardiamoci un pochettino quello che siamo stati capaci di fare prima, durante e dopo, e recuperiamo un po' di autostima. Sì. Per confidenza, te la vogliamo mettere da un'inglese. Per me il termine è solidarietà, nel senso che quello che abbiamo dimostrato in questo periodo è sicuramente un qualcosa di forte da parte di tutte le contropartidi. Siamo stati il primo paese, uno dei primi paesi, comunque che sono stati colpiti da questa crisi. Abbiamo fatto tante cose, sono stati fatti anche tanti errori, però, allora, secondo me la cosa più importante è che abbiamo davvero imparato da questo. Non che ritorniamo a comportamenti pre-Covid. Cioè, faccio un esempio, anche in azienda, visto che Patrizia ha citato lo smart working, se lo smart working ha funzionato, diamoglielo ai dipendenti lo smart working, non che poi ritorniamo al voler di nuovo, e ancora ti cito, Patrizia, tornare a un controllo dei dipendenti. Quindi questo vale su tutto il sistema paese. Quindi vogliamoci bene, cerchiamo di rimanere uniti, perché, io ripeto, adesso non voglio fare il catastrofico, perché non l'ho detto io, però siccome arriveranno altri momenti, e così magari diversi su altre cose, cerchiamo di imparare, e quella famosa resilienza, come era trasformativa, una roba del genere, trasformativa del manager, cerchiamo di farla nostra, come anche singoli cittadini. Allora, se faremo questo, a mio modo di vedere, potremo effettivamente essere, continuare a essere guardati anche come dei leader, cosa che siamo stati per parte di questo viaggio, perché è ancora un viaggio, non c'è ancora la destinazione, non si capisce bene quale sarà, e forse non ci sarà, perché appunto saranno sempre dei spostamenti un po' più avanti, no, di un cambiamento. E' chiarasso filosofico, posso sottolinearla questa cosa Alberto, scusami, ti sei preso, nella tua scuderia della tua collana, ti sei preso un autore quasi filosofico, devo dire, con questa visione, wow, assolutamente sì, però mi sto odiando adesso, lo so, lo so, lo so. No, ma non riesco a capire, se è una presa in giro o un complimento, però lo prendo come una seconda, perché mi... No, no, entra, entra, entra. In realtà è la seconda, cioè io giocando, però ti sto riconoscendo una visione che... No, io stavo per dire, di Stefano ho sempre paura quando dico una keyword, un tweet, e poi lo faccio partire, perché, diciamo, prendi i 280 e poi li è laddoba, però sei stato bravissimo. Esatto, quindi io ringrazio molto, siamo in perfetto orario, siamo stati anglosassoni, un'altra cosa bella di Covid-19 è che diventiamo tutti a slot, quindi lo slot è chiuso, ringrazio molto Patrizia, Daniele e Stefano, ricito i libri, perché comunque la Milano Digital Week nasce anche per dare senso alla... ulteriore senso alla letteratura e diffusione, quindi Brand Renaissance di Patrizia, la reputazione ai tempi dell'infosfera per Daniele, Social CEO di Stefano e Platform Brand da parte mia. Ringrazio molto Angelo che ci supporta e sopporta, ricordiamocelo sempre tanto, e Franco Angeli e tutto, diciamo, il concetto della Milano Digital Week. Buona continuazione, per chi è iscritto al webinar di stasera, 17-18, sempre con Franco Angeli, da parte mia ce li vediamo. Buon pomeriggio. Ciao a tutti. Grazie. Ciao. Saluto a tutti. Grazie da parte mia. Alla prossima. Alla prossima, grazie. Ciao. Alla prossima, grazie.